7 Days to Die 8 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 Days to Die 9 Days to Die 9 Days to Die 8 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 Days to Die 9 Days to Die 8 Days to Die 9 Days to Die 8 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 Days to Die 9 8 Days to Die 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 7x7 2, 2, 3, 4, 5 8 Days to die due forse qua, qua dove sono io probabilmente ce ne stanno altre due no, se noi tiriamo via questa, quella ce ne stanno altre qua, eh però questa qua fa effetto, cioè io la lascerei questa, esteticamente ci sta, una zona concerto, la posso ricreare eh ma dove? posso ricreartela magari qua vabbè vediamo, dai, va bene, qua sull'ingresso questo punto qua dai dai va bene, va bene, dai poi ci sbattiamo di più a ricrearla adesso, adesso le assegnazioni delle case le farà, le farà le, allora c'è un volontario che vuole, si però c'è un volontario che vuole assegnare le case del tipo io la mia la faccio qua, io la mia la faccio qua, c'è un volontario che vuole suddivider le case tipo uno a caso Insanity Wolf 87 presente ad esempio, tu che secondo me, fai una cosa vedi le case dove le stiamo facendo attribuisce a ognuno la propria il proprio perimetro così sappiamo esattamente lì e fallo con una cosa fai dei cartelli e li piazziamo tipo quella di sinistra la prendi per te quella di là per il greco e metti a ognuno la propria cosa fatti dei cartelli e fai te fai te decidi te dove metti io non voglio decidere decidi te quindi ne devo fare altre comunque starle sta faccele farà lui non ti preoccupare lui ti mette giù i confini il perimetro tu decidi solo che quel perimetro lì è la casa di Braistar quello lì è la casa di eccetera eccetera mazza che violenza spani che è di una violenza ragazzi inaudita veramente come fa sparire le cose lui ferma domanda qualcuno qualcuno si è fregato sì la roba che avevo messo da parte perché io avevo praticamente una gira completa non abbiamo fregato niente l'unica cosa è che abbiamo svuotato le casse le abbiamo messe nelle da smistare quella è l'unica cosa che abbiamo fatto è sparita tutta la roba che io avevo fatto per il fuoristrada e dove l'avevi messa scusa è dentro la cassa qua era bloccata io ce la vedo ancora inceppata ma è lì Braistar ma Braistar non sta combattendo no non sta combattendo arriva l'urlatrice livello tranquillo tranquillo eccoli lì perché devo capire da dove arrivavano per quello e da qua da qua io ho sempre la stamina da schifo ma chi se ne frega andiamo qua ce n'è uno qua ce l'ho sconvolto ah eccoli lì in fondo aspetta picchialo picchialo Braistar tu picchia quello Braistar beh ma giusto giusto ma si sono già finiti dai ce ne sono due o tre di numero ma proprio una roba easy neanche neanche il tempo di non faccio neanche il tempo ad arrivare lì che sono già morti dai guarda qua guarda qua panterina che ha finito di smistare tutto praticamente mamma mia panterina panterina è lo smistatore automatico questo gioco non serve uno smistatore automatico basta prendere panterina la cucina la cucina sopra l'ingresso è un'ottima idea sai quella è un'ottima idea è una rivolta all'interno che sembra più come per dire la zona controllo luce si è una bella idea però non lo piazza non lo piazza sopra attenzione uno due tre quattro per piazzare un cartello i quattro per un cartello ragazzi le cose le facciamo bene con Braystar che dice io l'avrei messo diversamente il cartello l'avrei messo più l'altro cos'è sta roba cos'è sto aborto di Braystar che è stato generato qua va bene a me piace è bello to via questo che è l'aborto di ah no questo va bene l'aborto di Braystar ma siamo come gli anziani di fronte al cantiere eh infatti esatto attenzione adesso arrivano nuovi studi bello bello va benissimo così sembra cimitero 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 panterina scrivo pantera rosa 88 panterina eh non lo so questa questa è una brutta scelta stai attento che se sbagli sono cavoli te lo dico scrivo pure sotto cucuzari no perché se no non lo trovo esatto allora questo è lo spazio che mi hanno riservato a me quindi io qua farò la mia casetta esattamente qua e ci metto già subito il mio sacco a pelo tu già ci metti casette di legno sì sì no beh certo cioè casette di legno colorate l'ultimo io la faccio d'oro la faccio eccola qua qua chi ci sta nessuno per fortuna non ho ancora confino con panterina confino per ora e basta per fortuna non mi mettete braister di fianco e allora ti metto braister no 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 qui già c'è braister no perché braister fa la casa poi cade mi cade sulla mia già lo so aspetta 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 non la facevo la casa no 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 è così 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 ma non me lo concio io per le feste l'ha messo veramente di fianco alla mia no brain star aspetta qua già così va bene brain brain panterina 88 cucuzzari dorati braister come l'affamato l'affamato braister l'affamato in saliti wolf l'ha scritto giusto però il cuoco l'affascinante va bene brain star invece di star lì a perder tempo prendi una pala e scavi argilla non ce l'ho la pala te la do io guarda vieni qua vieni 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 qua guarda che è qua piglia qua dove sei vieni qua brain star corri vieni qua brain star eccola qua guarda palla di ferro qua per terra per te vai ma dove devo scavare fuori fuori cerca argilla grazie a tutti 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 grazie a tutti